e benvenuti a tutti amici cripto curiosi caspa che cosa è successo dopo il crollo del cripto alute ovvero tutto il marasma a cui abbiamo assistito ieri ragazzi giornata di fuoco che effettivamente ha fatto cadere diciamo tutta la montagna di gain che sono stati effettivamente con fatica per alcuni asset acquistati nell'ultima settimana ragazzi che cosa è successo a caspa lo andremo a vedere in questo video perché non siamo riusciti per sfortuna a superare effettivamente la soia dello 0,20 centesimi di dollaro una volta per tutte come ben vediamo ad ora stiamo vacilliamo allo 0,16 effettivamente dopo il pump che c'è stato però devo dire ragazzi che caspa ha retto anche abbastanza bene ora ci troviamo in un altro trend un pochettino in negativo nelle ultime ore ma andremo a vedere che cosa è successo stiamo parlando comunque sia di un asset che solo nell'ultimo mese ha totalizzato un più 41,58 per cento conosciamo benissimo il mondo caspa che cosa è caspa quindi non stiamo parlando di una meme in sostanza anche un progetto super valido dietro ma effettivamente ragazzi non si è diciamo non si è scostata da tutto quello che è successo ieri a bitcoin il quale bitcoin ad ora lo troviamo tanto per andarlo a vedere lo troviamo ad ora a 69.375 qualcosina sta recuperando comunque ho fatto un video qualche ora fa quindi andatelo a vedere riguardo bitcoin e tirium e solana detto ciò amici prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel like al video di iscrivervi al canale accendendo la campanellina delle notifiche vi lascio tutti i link in descrizione anche il link del canale telegram e poi ragazzi vi lascio anche il link di questa presale pre doge ragazzi oltre i 3 milioni di dollari in soli dieci giorni se siete curiosi andatelo a vedere doge stile tamagogy stiamo in fase di presale quindi attenzione a tutti i rischi associate alle prese se volete vi lascio il link ufficiale qui sotto per andarlo a visionare allora caspa ragazzi nonostante tutto abbiamo dei volumi di tutto rispetto ancora ad oggi 108 milioni di dollari eravamo arrivati al picco quando eravamo arrivati anche lo scorso video allo 0, a quasi 19 centesimi eravamo a un picco di 160 milioni di dollari sul trading binance dove sei binance dove sei scrivetelo sotto nei commenti binance list spot dove sei qui sotto nei commenti così diamo voce a questo listing che tutti si aspettano ci sono varie voci in giro come abbiamo visto nel precedente video ragazzi quindi seguitemi sul canale che effettivamente forse si sta smuovendo qualcosa quindi amici nonostante tutto il meno 7,3 per cento sulla market cap nonostante tutto i volumi comunque sia sono al di sopra dei 100 milioni di dollari ragazzi non c'è nulla da dire perché ieri nelle ultime 24 ore capiamo benissimo amici che cosa è successo guardate qui qui abbiamo la nostra ben amata caspa le ultime 24 ore meno 7,4 per cento e guardate tutto il reparto altcoin meme e quant'altro ragazzi ci sono asset che hanno perso il 15 per cento 14 eccetera 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 ma casino quindi in sostanza anche caspa comunque sia capibile quello che è successo ma andiamo a vedere più nel dettaglio siamo su le andiamo a vedere interessante questo comunque sia ci sono state liquidazioni su binance by bit diciamo le maggiori in long di 238 mila dollari in short ragazzi su by bit 147 mila dollari nelle ultime 24 ore by bit il long 92 mila dollari comunque si abbiamo queste cifre qui liquidazioni per chi aveva posizione aperte sul trading allora caspa ragazzi che cosa sta succedendo ecco che cosa è successo qui ragazzi nella giornata di ieri nella giornata di ieri purtroppo naturalmente caspa ha subito diciamo questa cosa qui ha subito un meno 16 per cento sul prezzo ieri per fortuna non in chiusura ma effettivamente dai minimi ai massimi abbiamo un meno 16 per cento andando effettivamente a sfiorare questa zona di supporto ragazzi creata col precedente pattern possiamo chiamarla zona dei 0 15 ok quindi in sostanza anche vicino alla soia psicologica dei 0 15 quindi ragazzi diciamo che l'abbiamo ecco nello specifico l'abbiamo superata per poi essere prontamente rientrata all dentro ok quindi ad ora ci troviamo con una candela in chiusura negativa però naturalmente con un pochettino di incertezza ok l'unica cosa che i volumi ragazzi sono questi qui ok abbiamo volumi che ci fanno capire che il mercato potrebbe essere dominato dai dal dai short ok dai seller quindi in sostanza è successo questo ragazzi dopo la giornata di ieri ad oggi sembra che stiamo riconfermando questo trend ok sembra che stiamo riconfermando questo trend qui però secondo me naturalmente la soia diciamo critica la soia critica è proprio questa qui ragazzi ovvero quella dei 0 15 ok in sostanza questa è una forte soia di supporto il quale per il bene del progetto e quant'altro non dovrebbe mai andare al di sotto in questa fase qui il prezzo quindi al di sopra abbiamo queste zone di supporto qui date dall'ultimo ovvero o anche oltre mai e dall'ultimo dall'ultima zona di resistenza importante ovvero dello 0,85 ok soia che naturalmente è andata a superare per ok qui ai massimi del prezzo dopo l'ultima rottura che c'è stata del prezzo che dai minimi e massimi ha fatto totalizzato un po 40 per cento quindi siamo andati a una soia dello 0,19 e oltre tutti si aspettavano un ritest alla 0,20 a questa resistenza psicologica anche soia psicologica di 0,20 ma purtroppo non c'è stata con tutto il dump che c'è stato all'interno il crollo del mondo cripto ora in sostanza qui è una parte critica dove effettivamente bisogna andare a vedere se caspa riuscirà a reggere comunque sia lateralizzare e poi riprendere andare in un trend positivo rsi zona 60 e la stocastica ci va comunque sia a far vedere che addirittura ci aveva dato un segnale qui nella giornata del 4 giugno di un possibile di una possibile versione di tendenza come ben vediamo e ad ora siamo in questa in questa in questa visione qui in sostanza che sembra che ancora comunque sia il prezzo di caspa dovrebbe forse andare a ritracciare queste soglie qui queste soglie di di supporto importanti dello 0,15 ok zone dove troviamo maggiore liquidità stiamo parlando di 3 miliardi quasi 4 miliardi di dollari 3 miliardi di in queste zone qui dello 0,17 quindi ragazzi nelle ultime 24 ore diciamo che è buono trovare liquidità qui perché effettivamente il prezzo potrebbe andare a pescare in queste zone qui la liquidità se andiamo a vedere sull'orario facciamoci un'idea un attimo di quello che è successo nelle ultime ore in modo più accurato ecco qui quello che è successo ragazzi qui in sostanza abbiamo questa zona di supporto importante vedete qui quando c'è stato diciamo ecco qui c'è stato la giornata di ieri alle 8 ha tentato naturalmente di andare a testare questo supporto qua per fortuna non preso qui naturalmente sono state liquidate molte posizioni e ad ora abbiamo naturalmente questo trend ribassista in sostanza qui si sono formate altre soglie di naturalmente di resistenza sull'orario eccetera e questo è diciamo lo scenario ora naturalmente potrebbe anche andare a formare ecco qui una tazza col manico reverse ok naturalmente una tazza con manico reverse staremo a vedere in sostanza comunque sia ragazzi andiamo avanti passiamo alle notizie allora caspa ci sono le magliette simpatiche ve lo volevo far vedere a un meeting al world tour caspa naturalmente al meeting che stanno facendo e ci so hanno fatto le magliette solved naturalmente il problema il trilemma della block chain con scritto solved carine naturalmente queste mi sa che si possono anche acquistare sul sito ora va bene non andiamo a vedere magari si potrebbero anche acquistare e qui naturalmente ecco qui c'è questa foto qui carina ve la volevo far vedere anche questa foto naturalmente pubblicata qualche ora fa che dice l'evoluzione un progetto come caspa ha un impatto sul mondo in molti modi tuttavia va oltre innovazione nel fintech della gestione patrimoniale nel business cambia modello anche la vita individuale eccetera 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 molto carina qui abbiamo la foto e andiamo avanti siamo su diciamo molte testate online se non sbaglio stanno nascendo di caspa stiamo parlando di cas media dot com il quale che hanno un canale ancora piccolino stiamo parlando di 620 follower comunque sia qui in sostanza si stanno muovendo anche community per andare a fare informazione su caspa sostanza questo qui cas media e abbiamo un articolo su byna square di un utente molto seguito su importante 72 mila follower e oltre che dice le migliori art coin ad acquistare a giugno pronte a superare i loro massimi storici e qui va a parlare oltre a pepe fece ai ed era eccetera e quant'altro coin caspa caspa utilizza sistema cost dac ok sappiamo tutti che cos'è caspa il prezzo di caspa aumentato di oltre 21 per cento nell'ultima settimana del 26 per cento dell'ultimo mese in sostanza questo utente va a segnalare caspa come miglior art coin acquistare a giugno pronta per superare il suo massimo ragazzi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate andiamo a rivedere un pochettino il grafico quindi in sostanza diciamo che la prossima settimana caspa effettivamente fatemelo sapere nei commenti potrebbe andare a ritestare queste soglie dello 0,18 e 5 scrivetemelo nei commenti fatemelo sapere noi ci salutiamo qui ci vediamo al prossimo video ciao a tutti